Capitano Stefano Moretti, il rientro è sempre più vicino, qual è la situazione innanzitutto? Le sensazioni sono positive, abbiamo finito il ciclo in studio nel Centro Equilibrium, adesso iniziamo a toccare un po' il campo e vediamo piano piano come si evolve la situazione. Io mi sento bene, adesso chiaramente mi sono affidato completamente allo staff medico, al preparatore Giuseppe Cozzi, quindi sensazioni più che positive. Senza dare date, il mese prossimo però potremmo rivederti in campo probabilmente. Ci siamo messi quell'obiettivo, adesso vediamo, stiamo lavorando per raggiungere. Tempo di derby, partita durissima, resa ancora più complicata dalle tante, tantissime defensioni in casa matura. Sicuramente il derby già di per sé è una partita diversa dalle altre, per il contenuto emotivo. Contro Pescara Basket, che è veramente un'ottima squadra, sarà una partita molto 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 difficile, che resa appunto, come hai detto tu, molto più difficile dalle varie essenze che abbiamo. Nulla toglie il fatto che noi sputeremo il sangue. Grazie.